E' stato presentato lunedì 27 agosto in municipio a Pontestura l'evento Pichine e Storci Pontestura Reunion 2018, evento che si svolgerà a Pontestura l'8 settembre prossimo ed è organizzato al circolo Ancol del Paese con il patrocinio dell'amministrazione comunale. All'incontro erano presenti il vice sindaco Pontestura Gianni Pasino, una delegazione degli organizzatori del circolo Ancol di Pontestura, Silvia Raimondo e Elena De Stefani, rispettivamente segretaria e cassiera economa del circolo, il socio Stefano Sorgon, Francesco Romanello, membro della compagnia La Polvere che si occupa anche di ricerche storiche appunto del Paese, nonché Beppe Benso della Storica Music System. L'amministrazione vuole cerberare oltre 50 anni di leve pontesturesi con una giornata a loro dedicata ed una cena in piazza. A Pontestura infatti, a differenza di quanto avviene comunemente, i ragazzi hanno sempre festeggiato il raggiungimento del 17esimo anno di età e i coscritti da tradizione vengono chiamati Pichine. La leva ovviamente invece è al 18esimo anno. Pare da ricerche che questo risalga al fatto che a Pontestura, fatto più unico che raro, si celebrava un festeggiamento che sembra sia quello dei ragazzi del 99, cioè l'ultima leva entrata e chiamata in guerra durante la prima guerra mondiale, ben due anni prima del raggiungimento della loro età del 18esimo anno. Questa è ovviamente una reminiscenza storica. A Pontestura questo fatto è stato celebrato e si continua a celebrarlo unico tra i paesi della zona. A dare inoltre ulteriore l'importanza dell'evento verrà celebrato un altro ritorno storico nel comune di Pontestura, sulla piazza storica. Dopo 30 anni la videodiscoteca mobile Music System della Benzotec, con Beppe Benzo che era presente alla presentazione, verrà ad aglietare la serata che dalle ore 22 farà ballare tutti, sotto le stelle con disco d'enso degli anni 70, 80, 90 fino a lì di oggi. Dopo il successo ottenuto alla festa delle leve avvenuta a Cerrina nel mese di giugno durante una serata che aveva richiamato un fortissimo pubblico, non soltanto dalla zona, la presenza del Music System a Pontestura farà rivivere in tanti le emozioni di divertimento che animavano le notti estive degli anni 80 e 90. L'ingresso al Music System sarà invece aperto e libero a tutti coloro che dovranno unirsi nei festeggimenti dei Pichinè. Tra l'altro alla festa dei Pichinè si annunciano anche arrivi dall'estero, addirittura dei pontesturesi che rientreranno da Rotterdam. Quindi il Pichinè non è semplicemente una festa della leva e come è stato detto e ribadito dai presentatori dell'evento, chi fa il Pichinè resta Pichinè per tutta la vita.